Penso che ci sia il massimo, ecco, è stato un mio, una straordinaria, insomma, Angelo, ci si è detto da me, ecco, veramente è stata una prossima per questi cammini. Ecco, quando tu ci vieni parecchio a presentare una mia persona, le cose a te luci, le chiedo di venire qui a parlare. Lui lo pensa, è stato il suo percorso, è stato vendato un attimo a volte. Ma, innanzitutto, voglio dire appunto il mister per aver invitato, per la partecipazione qui alla prossima inaugurazione della Scuola Tacca. Ringraziare anche la sua moglie Le Monda, ringraziare i presidenti per questa opportunità, perché essere qui, appunto, oggi, davanti a tutte queste persone, tutti questi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, per me è soltanto un onore, un motivo, anche per voi. Grazie mille, a te, io, anche per voi, anche per voi. Grazie mille, anche per voi. Grazie.